E abbiamo raggiunto uno degli stand che abbiamo già conosciuto l'anno scorso ma che resta uno dei più gettonati, dei più visitati e quantomeno dei più originali della fiera di Terra Nuova Bracciolini. Siamo nell'angolo, nello stand della Fala di Gnameria Fofi prodotto su misura via Benedetto Spinosa 1 di Cerbara, città di Castello Perugia. E qui abbiamo il fiorfiore dell'artigiano, qui abbiamo il tavolo fatto con amore, con passione, utilizzando, ed è questa la caratteristica e la bellezza dei suoi mobili, utilizzando il legno così a naturale. Uno stile che sta andando tantissimo e che le sta dando davvero tante soddisfazioni. Sì, materiali, le scienze, vanno scelte le scienze molto semplici cercando di manometterle il meno possibile, cercando di lasciare sui tavoli, di lasciare in tutti gli oggetti le tracce precedenti della vita precedente del legno. E così, ottenendo con una grande semplicità, si cerca di ottenere dei prodotti che qualitativamente vengono abbastanza buoni, molto alti. Realizziamo cucine, scale di legno, finestre, portelloni, insomma una casa siamo in grado di chiuderla al 100%, dalla muratura grezza fino alla casa finita. Senta, io le svelo una mia considerazione, io credo che lei faccia questi prodotti con amore e si vede. Sì, sicuramente ci vuole una certa passione per fare questo lavoro perché è molto creativo e ci vuole che uno mentre lavora si diverte praticamente. Qui a Terra Nuova Braccinini ha portato un tavolo che sta ottenendo un successo strepitoso, innanzitutto il legno, c'è una lavorazione particolare, poi un tavolo possiamo definirlo polifunzionale? Sì, un tavolo polifunzionale che tutti i nostri tavoli hanno diverse disposizioni, si possono usare in diverse misure tutti quanti e poi quello lì è proprio un tavolo che è attrezzato ripassando il vecchio tavolo del contadino che era compreso di spianatora, mattarello, cassettino, tagliere, attrezzato che le masseglie potevano fare il lavoro completo in questo tavolo, dalla pasta, taglia alla carne e altre cose. Noi abbiamo visto un tavolo immenso che non finisce qui ed è questo qui al suo fianco perché questo tavolo può avere dimensioni fino ad arrivare fino a dove? Questo tavolo, le dimensioni massime che abbiamo fatto è arrivato a 6 metri, 6 metri di lunghezza, si può fare da 6 metri, da 5, però il modello quasi standard è lungo 200 cm per largo 100 cm che tutto aperto arriva a 380 cm, modulabile di 45 cm a prolunga che uno lo adatta secondo le proprie esigenze. Falegna Maria Fofi, non dimenticate eh! Grazie, arrivederci!